E' la nostra intenzione di tutti quella di continuare a far vivere le piazze e gli eventi nelle piazze. Dopo la paura, Torino torna a vivere con eventi di grande interesse nel mese di giugno. E' tanta l'attesa per la pop star Ariana Grande, l'artista amata dai giovanissimi che aveva inizialmente cancellato la tournée italiana dopo che proprio durante un suo concerto a Manchester si era scatenata la furia terrorista con 23 morti e 122 feriti tra il pubblico. Ariana Grande, che si è resa protagonista domenica di un grande evento live con artisti internazionali proprio a Manchester per ricordare le vittime, canterà dunque a Torino il 17, 18 e 19 giugno al Palalpitour dalle 20 e 30 per la gioia dei fan piccoli e grandi che avevano esaurito i biglietti già mesi fa. Tre date, quelle torinesi, che porteranno sicuramente entusiasmo e anche una nota di commozione nel vasto pubblico turinese sull'onda emotiva della strage di Manchester e anche del successivo toccante concerto di beneficenza in Mondovisione con decine di migliaia di partecipanti. E si attendono imponenti misure di sicurezza anche per il Salone dell'Auto al Parco del Valentino dal 7 all'11 giugno. Dopo il successo dell'anno scorso, gli organizzatori prevedono un afflusso di 800.000 persone. Fosse vero, andremo incontro sicuramente a un obiettivo sensibile e così come sensibile sarebbe sicuramente la festa di San Giovanni, un altro evento all'aperto, paragonabile peraltro alle celebrazioni sul lungomare di Nizza, colpite dal terrorismo lo scorso luglio. Questura e prefettura hanno annunciato misure di sicurezza senza precedenti per far vivere ai torinesi e ai turisti un mese di giugno e un'estate di festa e serenità. Sicuramente anche l'attenzione dei cittadini, pensando anche a momenti come quelli di Piazza San Carlo sabato scorso, sarà diverso rispetto agli anni passati.